Forme sinuose, materiali che raccontano la storia del design automobilistico italiano. Due brand che incarnano il vero DNA del Made in Italy. Cinque oggetti eleganti e preziosi, dedicati agli amanti del bello assoluto. Baracà, sinonimo di alta gioielleria maschile, in collaborazione con Pininfarina, la design house di fama internazionale, hanno dato vita ad Italian Icons Collection, una linea esclusiva di portachiavi realizzati con attenzioni artigianali e tecniche innovative. Amiamo definirci un'azienda che guarda le passioni dell'uomo. Non potevamo trovare partner migliore per questa collaborazione che ha dato il vita a cinque portachiavi unici, che riprendono la storia dell'auto e li ha disegnati chi ha fatto la storia dell'auto, chi ha guidato la storia dell'auto. Cinque gioielli, cinque portachiavi veramente unici, con delle particolari, innovativi e all'avanguardia. Design, tecnologia, lusso, all'insegna del Made in Italy e dell'artigianalità. Certo, l'avanguardia produttiva per noi è fondamentale. Dal 1975 il nostro gruppo qui alle porte di Vicenza, ne siamo molto orgogliosi di questo, sappiamo fare italiano, siamo Made in Italy. Lo raccontiamo, abbiamo 60 maestri orafi che ogni giorno cesellano e creano delle opere d'arte che poi noi distribuiamo in Italia e nel mondo. A lanciare la collezione, lo special event Driven by Perfection, reso ancora più perfetto dalla presenza, in fiera di Vicenza, di due modelli di auto firmate Pininfarina, giunte qui direttamente dalla sede torinese della Design House. Abbiamo cercato e siamo stati veramente molto felici di trovare un patrio che da più di cent'anni guida la storia dell'autore. È con grande piacere che annuncia questa collaborazione qui a Ferma Vicenza. Speriamo che la collezione venga accoltata con lo stesso entusiasmo che noi l'abbiamo disegnato. Grazie. Grazie.